Dieci persone arrestate, un'altra latitante, quasi un centinaio di episodi di spaccio acclarati, migliaia di euro sequestrati e soprattutto un intero quartiere, il Lamia di Pagani, sottoposto a un controllo militare e luogo privilegiato di spaccio. Un supermarket della droga aperto tutto il giorno con vedette e controlli per scongiurare l'intervento delle forze dell'ordine. Procura e direzione distrettuale antimafia di Salerno hanno messo a segno un'operazione che ha disarticolato un'organizzazione criminale specializzata nel traffico e spaccio di droga nell'agro. Anche l'operazione di stamattina fatta nell'agro nocerino sannese testimonia ancora una volta della necessità dell'impegno preventivo e repressivo da parte delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria per combattere il fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Per noi è necessario continuare su questa strada, quindi anche oggi la dimostrazione dell'aderenza sul territorio da parte delle minori unità di carabinieri come può essere la stazione o la tenenza ci testimonia ancora una volta della necessità del contatto col territorio. Avendo il contatto col territorio riusciamo ad acquisire notizie e affronteggiare meglio questi fenomeni. Il controllo del territorio stile Gomorra, stile secondigliano? Non è lontano dalla realtà quello che chiede lei che comunica. Effettivamente il controllo del territorio di questa organizzazione era fatto in modo capillare, in modo quasi militare, nel senso che è documentata la presenza di vedette, di linguaggi gergali per avvisare dell'arrivo delle forze di polizia sul territorio.